Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori sono chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per traffico intenso ci sono rallentamenti nel tratto tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Su raccordo Siena-Firenze chiusi in entrata in direzione Firenze gli svincoli di Badesse e Foggibonsi Sud. Possibili disagi per lavori tra Badesse e Monteriggioni. Ricordiamo che fino a tutta la giornata di domani per danni al maltempo la linea faentina è chiusa tra Faenza e Marradi. Previsti bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!